Qualificazione ottenuta senza perdere neppure un set e stasera per lei festa doppia perché è anche il suo problema? Eh sì, devo ammettere che sono molto felice di come è andata stasera, abbiamo lavorato tanto dopo la finale che non è andata come vorremmo siamo venuti qua e abbiamo dato tutto per tutto, abbiamo vinto tutti i set e siamo riusciti a strapparci questa qualificazione per l'Olanda. Sono molto felice, sono riuscito a chiudere anche con l'ultimo punto, quindi un regalo anche per me diciamo, è stato veramente una bella giornata. Adesso ci vuole un po' di vacanza? Adesso ci vuole un po' di vacanza, stiamo lavorando da tanti mesi, adesso un po' di meritata vacanza e poi si ricomincerà con la preparazione, con i club. Come vi siete trovati qui a Viglianagri, a strutturare il pubblico e la situazione? Ci siamo trovati veramente veramente bene, poi tornare a giocare in Italia si sente subito perché si è sentito subito il tifo, il più caldo dell'Italia, anche durante l'inno si è proprio sentito il ritorno e Viglianagri è stato molto bello, un po' caldo però è stato veramente molto bello. Grazie, grazie.